Vi ricordate di Davide Silvestri? Lui è un ex concorrente del Grande Fratello 6, di cui è arrivato secondo. Il ragazzo molto riservato, già attore, ha dato la notizia che sarà protagonista del film Nina dei Lupi. Il film sarà proiettato alla giornata degli autori a Venezia. Insomma, una grande soddisfazione per Davide Silvestri, che con grande felicità ha condiviso su Instagram la notizia.